che cosa sarà alex alza volume vabbè ovviamente zucchine in padella dovrei fare una spadellata ma che bella sta musica la Progressive DJ Dado X-Files mamma che bella gli anni 90 adesso si sta asciugando pian piano poi dopo la incorporerò nella pasta ma forse tra breve dovrei prendere l'ecostudio che grande è il doppio eh sì mamma che bella sta musica altro che trap cagate varie ragazzi miei che bella che era sta musica tanto la facciamo asciugare un po' e dai alla prossima ciao ciao ciao